Sei proprio sicuro che il tuo traffico sia calato per un major algorithm update? Ne parliamo dopo la sigla! Ciao e benvenuto o bentornato alla SEOtimana, la rubrica dove ti parlo dei contenuti SEO più interessanti degli ultimi sette giorni. Questa settimana vorrei parlarti in modo approfondito di un bellissimo articolo pubblicato da Michael Martinez sul suo blog SEO Theory intitolato Why do websites lose traffic gradually after a major Google update? Questo articolo è fantastico perché sono sicuro potrà aprire gli occhi a chi nell'ambito di un major Google update appunto si concentra troppo su particolari spesso ininfluenti perdendo di vista il sistema complesso del quale fanno parte i webmaster la SEO e il motore di ricerca Google. Essendo però lungo in un inglese tecnico ti racconto le parti che non puoi assolutamente perdere perché so che molto probabilmente non avrai la pazienza di leggertelo. Secondo me peraltro l'articolo ha un titolo piuttosto riduttivo e l'avrei chiamato impariamo a capire come non farci prendere dal panico e investigare in modo corretto le cause di un calo di traffico vero o presunto in concomitanza con un update dell'algoritmo. Ok prima di tutto mi piace tantissimo il passaggio dove giustamente asserisce che non tutte i major Google update sono effettivamente major o addirittura sono effettivamente update. Ricordi quest'estate quando il simpatico Yoast verso giugno o luglio giudilino ricordo esattamente a causa di un bug ha smesso su alcuni siti in WordPress di nascondere tramite redirezione le cosiddette attachment pages? Se non hai mai sentito parlare di queste attachment page beh sono quelle pagine create automaticamente dal CMS e WordPress dove di fatto descrive le proprietà di un file allegato ad un articolo come ad esempio canonico un'immagine comportandosi più o meno come il classico file explorer di un sistema operativo come può essere Windows o Linux. Ebbene grazie a questa svista chiamiamola così tantissimi siti che hanno aggiornato da vecchie versioni del plugin a quella nuova che mi pare fosse la numero 7 la numero 8 si sono ritrovati per lo più inconsapevolmente con centinaia o addirittura migliaia di pagine di scarsissima qualità tutte scansionabili e indicizzate che in un colpo solo hanno dato un aroma di bambù diciamo al sito che in questi casi perde molta della qualità media della quale ti ho parlato lungamente nella scorsa puntata proprio della settimana. Questo sito ipotetico diventa quindi un potenziale target addirittura non solo di un calo di traffico dovuto al fatto che il sito fa un po' più schifo di prima ma proprio di tutti quegli algoritmi panda like che vanno a colpire forse non lo sentite dire da un po' il famoso thing content il contenuto sottilino che in questo caso è dato proprio da queste pagine che hanno un'immagine il nome file la grandezza in kilobyte e poco più. Martinez usa saggiamente questo esempio per parlarti di una situazione dove molti hanno gridato al major update non ricordo bene e dove ad un primo sguardo poteva effettivamente sembrare un'ipotesi plausibile e plausibile è una parola chiave del discorso in questo caso della quale torneremo a parlare tra molto poco rimani lì. Insomma nel caso dell'app di Yoast molti hanno iniziato a cercare risposte nel posto sbagliato ovvero intorno a google e ad un fantomatico update senza neanche premurarsi di capire ad esempio se davvero qualcosa fosse cambiato nel sito perché bastava semplicemente una scansione con screaming frog per rendersi conto che ad esempio le pagine erano aumentate di molto ma che pagine sono comparse cos'è successo facendo un site due punti che come sappiamo non dà una cifra esatta delle pagine del sito ma ci dà una buona indicazione sarebbe stato visibile molto velocemente se noi abbiamo 100 articoli nel backhand di wordpress ma abbiamo 500 pagine indicizzate qualcosa non va detto questo può accadere anche il contrario il mio sito cala in concomitanza di un evento magari verificato diciamo come veritiero da google e da dichiarazioni ufficiali e quindi essendo plausibile che il sito sia calato proprio per quest'app si inizia a lavorare dove gli esperti dicono si debba fare ad esempio gli esperti dicono questo update riguarda le pubblicità e ci mettiamo a togliere pubblicità perché siamo calati di traffico in quel periodo bene una cosa sbagliatissima come dice martinez in questi casi la prima cosa da fare è lavorare su tutte le ipotesi investigare analizzare i dati o se non si è in grado di farlo chiamare qualcuno che possa farlo con cognizione di causa da moderatore di una grande community come quella dei fatti di seo che è grande in tutti i sensi in volume di utenti e nel cuore che ci mette ad aiutare gli altri vedo spesso persone andare a tentoni colpite da update o presunti tali o comunque persone che chiedono aiuto e che passano all'azione dopo aver chiesto consigli ad altre persone che pur dotate di tanta buona volontà e che vogliono fare del bene spesso vedo fare ipotesi senza neanche aprire i siti in questione perché sì è molto facile riportare la notizia che c'è stato un update potrebbe essere stato quello e gli esperti dicono questo gli esperti dicono l'altro ma il dipende tanto antipatico nella seo per i seo e per chi diciamo subisce la seo come cliente di un seo o come webmaster che si avvicina alla seo è una cosa sacro santa basta lamentarsi del dipende e delle indicazioni vaghe non c'è nessuna indicazione vaga devi analizzare il sito se succede qualcosa vai a vedere cosa è successo non prendere per scontato quello che leggi sul web e martinez lo dice bene mai dare per scontato che una perdita di traffico nel periodo di tulborenza algoritmica sia dovuta ad un algoritmo più in generale ti dico io non dare per scontato che sia un algoritmo a farti perdere del traffico bisogna andare a fondo su tutte queste questioni nel caso del primo agosto ad esempio su tre siti colpiti duramente che ho osservato da vicino come consulente o come osservatore interessato non ho notato grandi punti di contatto nel senso di errori grossolani che questi siti condividono erano tutti afflitti da problemi diversi e più o meno evidenti peraltro certe volte ci vuole del mestiere certe volte si fanno delle ipotesi anche azzardate che richiedono tante esperienze e non c'è un cazzo da fare è così l'unica cosa certa dopo un calo di traffico è che il sito per qualche motivo piace meno a google ma neanche quello ma ne parliamo tra un po' insomma non bisogna dare per scontato nulla si possono usare le ipotesi che girano sulle community è giustissimo i consigli dati col cuore dagli utenti di fatti di seo fateci una ragionata ma bisogna studiare a fondo ogni problema ogni ipotesi con pazienza e obiettività non c'è altra via il secondo punto molto interessante che solleva martinez sono quelli che chiama gli eventi in cascata perché un sito potrebbe perdere traffico costantemente dopo un maggior update la ragione è che come molti spesso scordano i segnali che google studia e le metriche che va a creare attraverso di essi riguardano una rete interconnessa di entità e accade che il network intorno al sito colpito i siti che ci stanno intorno per esempio che mandano backlink al sito colpito a sua volta possono essere stati impattati negativamente dall'update o da qualcos'altro in alcuni casi limite addirittura il calo è dovuto ai vicini colpiti e non a proprio sito al 100% martinez parla di poisoned page rank che mi piace molto letteralmente il page rank avvelenato e fa un'osservazione molto corretta il page rank viene alterato ad ogni passaggio tra pagina e pagina e ancora di più da sito a sito ed è corretto pensare anche se non conosciamo l'esatta natura del fluire del page rank nel 2018 ma probabilmente non la conoscevamo neanche dieci giorni dopo il rilascio del famoso foglio del white paper che parla del page rank diceva è corretto pensare che questo page rank possa prendere un'accezione diciamo negativa quando passa da un sito che porta ed è carico di specifici segnali di negatività per google capita quindi che un sito semplicemente non invii più page rank perché è vittima di qualche flag e quindi il nostro sito cala perché magari i link contavano molto nella nostra equity dei link o perché a sua volta i backlink in entrata del vicino non passano più nulla perché sono stati flaggati perché il vicino ha spammato è stato colpito da malware tantissime cose possono accadere perché google possa decidere plausibilmente di flaggare quindi di mettere un tick una v un check mark nel quadratino che dice questo sito non passa più page rank cosa che plausibilmente esiste penso che sia stato anche nominato da qualche googler ma però pensateci ci sta ci sta che ci sia potrebbe esserci facendo un altro esempio molto plausibile che il sito del vicino abbia fatto disavow ai link sbagliati e ha disconosciuto link che invece erano buoni e gli portavano tanto page rank potrebbe esserci stata una penalizzazione manuale insomma tantissime cose a volte non sei tu ma il tuo vicino ad essere stato colpito e in cascata questa cosa però ti penalizza ma non penalizza nel senso di google ti porta giù ti colpisce in maniera negativa anche se in modo indiretto se tuo vicino è pelato agli ocali un professore con un tumore che vuole lasciare dei soldi alla famiglia e apre un laboratorio di metanfetamine di fianco a casa tua la tua casa potrebbe perdere valore anche se tu la tua casa l'hai tenuta bene hai cambiato il boiler quando andava cambiato hai tutte le carte al suo posto hai una scuola davanti a casa magari tornando a cose più tecniche e più seo il vicino ha decise di mettere in no follow tutti i link in uscita perché pensa di essere stato algoritmicamente penalizzato e ci va giù pesante cercando di uscire dall'impasse insomma un gran casino c'è da pensare un sacco di cose sono tutte ipotesi da considerare soprattutto quando il profilo di link del tuo sito è magrino diciamo ossia hanno pochi domini linkati in entrata magari con pochi link pesanti che reggono passatemi in termine l'equity di tutto il sito andando oltre altra questione sollevata da martinez della quale parlai tra l'altro qualche video fa tra le montagne bellissime montagne del trentino che mi mancano tantissimo è il fatto che esistono diversi livelli di analisi con diverse velocità di completamento dell'analisi stessa magari qualche classificatore come li chiama martinez che deve decidere se il vostro sito ha bisogno di un'analisi specifica che deve rendirizzare a un altro robot a un altro automatismo i dati del vostro sito è molto lento o sempre il vostro sito è molto grande e l'algoritmo che ha colpito negativamente per gli stessi motivi per cui potrebbe colpire il vostro sito una proprietà più piccola fatta di meno pagine avrà impatto sul tuo solo a settimana di distanza o un mese addirittura è un'ipotesi che non escludo mai e che vado a verificare quando vedo cali drastici di siti che non hanno spiegazioni diciamo tecniche le pagine sono tutte accessibili non sono state implementate cose strane non ci sono pagine che generano spazi infiniti tutte quelle cose bloccanti c'è indire direct che distruggono il sito abbiamo sbagliato il robots.txt abbiamo messo in no index tutto il sito perché abbiamo messo la flag di wordpress per sbaglio come dicevo qualche minuto fa le ipotesi vanno bene ma vanno sempre investigate l'ultimo consiglio di martinez e anche questo me l'avete già sentito dire diverse volte è che quando vedete cali bruschi per esempio nelle vostre web analytics su google analytics appunto non potete affidarvi ad una sola fonte di dati innanzitutto bisogna sempre chiederci c'è stato un qualche cambiamento nelle cose che contano davvero ad esempio come stanno le conversioni i soldini arrivano ancora esistono anche casi dove il traffico scende effettivamente ma le conversioni rimangono ben venga perché è semplicemente un risparmio di banda del vostro server cercate di capire perché ma non c'è stato nessun danno vero perché il traffico non conta niente conta quante volte il sito riesce a raggiungere l'obiettivo che si pone detto ciò andate a vedere search console e i log del vostro server che se sono settati in modo adeguato sono la fonte di dati più interessanti che avete sul vostro traffico cercate di capire se il calo è solo un errore di tracciamento insomma perché può capitare e quante volte ho visto su fatti di seo persone che erano gasatissime perché la bounce rate era finita all'uno per cento perché avevano messo due volte il codice che avevano il sito in flat line cioè linea piatta gli veniva da piangere ma semplicemente erano passate ad https e non avevano fatto lo switch del tipo di proprietà in analytics e così via dateci un occhio perché capita la morale di tutto questo discorso è che i major update di google non possono essere né gli alibi né il posto il target sul quale riversare le proprie ansie le proprie frustrazioni perché si è scazzati perché si è perso del traffico perché si perdono delle conversioni perché la vita si è fatta più difficile in quel momento specifico e si vuole trovare un colpevole il più velocemente possibile delle volte certi problemi non possono essere risolti velocemente e spesso nella seo soprattutto quando un sito fa tanto traffico e poi ne fa poco capita proprio che ci voglia del tempo e prima cosa da fare è cercare di investirlo nel modo migliore possibile andando a investigare a trovare delle cause non dico certe ma non solamente plausibili perché molti altri sono stati colpiti da un fantomatico update e l'esperto di turno tra i quali mi ci metto anch'io vi dice che bisogna togliere delle pubblicità per esempio cosa che non vi direi mai ma vi direi andate a capire cosa è successo ma insomma ci siamo capiti dovete pensarci investigare non riposarvi sul colpevole più probabile più plausibile parola chiave di tutto questo discorso attenzione fate molta attenzione bene è stata una bella cavalcata passiamo ora alla rassegna dei contenuti che vi presento velocemente come al solito vi consiglio di leggere ma che approfondirò nella prossima newsletter ricordi quando un paio di settimane fatti ho parlato di tagno script del lazy loading google ha rilasciato la prima versione della sua guida all'implementazione seo friendly proprio di questa tecnologia ad inizio settimana c'era stata una discussione scaturita da uno scambio tra matt split uno sviluppatore di google e il solito john muller dove il primo diceva che google di fatto all'atto della scansione non scrolla perdonatemi il termine le pagine e il lazy load non dovrebbe venire utilizzato con questa logica ovvero con i classici eventi perdonatemi anche qui la terminologia triggerati fatti scattare on scroll ovvero allo scroll dove il javascript appunto guarda quando la pagina viene scrollata preferendo a questo tipo di logica il dynamic rendering sul quale google ha rilasciato un documento di supporto ad inizio ottobre che vi allego in descrizione tornando al lazy loading in realtà il documento ora contiene di fatto solamente una metodologia per testare se google bot può visualizzare correttamente le tue pagine questo viene fatto attraverso una versione radiocomandata di un headless chrome che viene pilotato da una libreria node.js curioso vero si possono fare secondo me tante cose interessanti con questa metodologia ma ne parleremo in un'altra occasione la crescita dei social in termini di utente negli stati uniti è ferma tu lo sapevi io no pensa che facebook ha gli stessi utenti attivi da nove mesi a questa parte mentre twitter e snapchat addirittura ne stanno perdendo costantemente la crescita di questi social continua certamente nei mercati emergenti ma il problema sta nel fatto che il revenue dato dalle pubblicità per ogni utente americano è tre volte superiore di quello di un utente europeo questo perché evidentemente gli americani hanno semplicemente più soldi da spendere addirittura se si parla di utenti asiatici la cifra è di dieci volte inferiore e quindi avete presente quando tanti hanno iniziato a dire ah beh dopo il primo agosto google si mangia tutto il traffico bisogna buttarsi certamente sui social conti da fare non sono così semplici è una situazione complessa e ti dirò la mia nella newsletter perché qua si arriva a parlare addirittura forse di politica ho una qualche idea perché il prossimo presidente si chiamerà mark zuckerberg te l'ho detto ora ascolta bene e concentrati per questa ultima parte bellissima ultima cosa che ti devo dire l'html e il contenuto il css la presentazione il javascript è magia e unicorni ma non fare affidamento su magia e unicorni se non sei veramente costretto con magia e unicorni spesso arrivano anche tanti rifiuti radioattivi questa era una citazione di matt split lo sviluppatore di google del quale abbiamo parlato poco fa e io ti dico fanne tesoro e soprattutto nella seo come nella vita keep it simple bene dopo tutta questa poesia direi che per oggi è tutto se non mi si cancella di nuovo la doppia edizione della newsletter nell'editor di sending blue questa settimana manderò gli iscritti praticamente un ebook pieno di cose veramente molto interessanti perché è molto lunga questo insieme a informazioni sul progetto del quale parlo da mesi e che finalmente è pronta a partire editor di sending blue permettendo comunque sia io vi aspetto qui la prossima settimana intanto vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti a